buongiorno bentrovati a tutti voi anche agosto ce lo stiamo per mettere alle spalle di questo 2023 io sono manno e questo è canale forza lazio partiamo con la nostra intro bentrovati ragazzi bentrovati a tutti voi buongiorno vi ricordo che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il nostro mondo i social facebook instagram e twitter trovate anche scusate rumori di fondo non so se lo sentite ma è un meraviglioso rumore di una del giardiniere che sta tagliando l'erba che è una cosa che mi rilassa tantissimo in più trovate gli indirizzi di riferimento per mettervi in contatto con noi da partire da nostra mail canale forza lazio cioè gmail.com da questa mail alcuni di voi iscritti alla nostra lega del fantacalcio hanno ricevuto nella giornata di ieri dei solleciti per attivarsi e cominciare a fare il gioco onde occupare inutilmente degli spazi fortunatamente l'ottanta per cento dei partecipanti ha già fatto quello che doveva fare invece per quanto riguarda qualcuno abbiamo ancora qualche problema e li sto sollecitando in modo che poi la lega sia completamente attiva detto questo ragazzi vi ricordo anche il nostro blog canale forza lazio punto com blog sul quale oggi uscirà un nuovo articolo del nostro giuseppe alteri me l'ha mandato ieri sera e nella giornata di oggi andremo a pubblicarlo l'ultimo video di oggi sapete che noi abbiamo le famose quattro fasce le famose quattro fasce di video finché riesco a tenerle l'ultimo video di oggi sarà una live e già perché a partire dalle 18 saremo in diretta per vivere insieme le il sorteggio di champions league sorteggio appunto in programma oggi troveremo poi il modo di seguirlo insieme di di farci una una chiacchierata e vedere un pochino da dire le nostre a caldo non appena sarà stata assorteggiata la lazio detto ciò ragazzi e solo un pimpi un piccolo accenno a qualche imbecille perché così va chiamato l'imbecille di turno che capita io l'avevo fatta la premessa no io avevo messo in preventivo che il video di ieri si uccide immobile se non veniva visto per intero e veniva visto saltellando come una rana alla fine qualche cretinello di turno si faceva un'idea sballata e finiva con il commentare erroneamente quello che avevo detto e in più anche offendendo ed usando parolacce fortunatamente la maggior parte di voi invece capito il senso e ha commentato in maniera assolutamente educata e civile e è andato tutto assolutamente bene tranne per quel quella coppietta di stupidini che alla fine sono stato costretto a bloccare perché offensivi ecco se dovete offendere usare il vostro livello standard di intelligenza bassissima sia in termini di preparazione della lingua italiana che proprio di intelligenza andate da altre parti non qui questa non è casa vostra a noi non piace questo tipo di comunicazione va bene detto ciò ragazzi entriamo dritti nel video di oggi lo avrete capito assolutamente dalla copertina che andiamo a parlare di luiz alberto e quante chiacchiere abbiamo detto su luiz alberto nel corso di questa estate quante e l'offerta araba e il contratto da 8 milioni a stagione e luiz alberto che bar collava i capricci di luiz alberto ad auronzo di cadore i capricci di qua i capricci della fortunatamente meno male meno male il discorso è chiuso luiz alberto ha firmato proprio nero su bianco il contratto che lo lega la lazio per i prossimi cinque anni e poi quando andremo a fare un po una riflessione mia per i prossimi cinque anni per un contratto di quattro anni a stagione più bonus diventerà insieme a ciro immobile il calciatore più pagato della rosa bianco celeste che in termini qualitativi del calciatore ci sta ci sta allora vi ho parlato tante volte del modo sbagliato di luiz alberto di come l'estate sia una stagione particolare per lui s'alberto perché la vive sempre un po così furico di furicura nel senso che gli prende gli prende un po di matto e o torna tardi da ritiro non vuole più stare alla lazio si guarda troppo intorno non si presenta in allenamento perché c'è il capriccio della promessa del contratto che gli ha fatto lo dito vuole che venga firmato subito anziché aspettare fine agosto come gli aveva promesso lo dito perché pure questo non va a detto nessuno insomma alla fine tutte queste storie tutte queste storie alla fine da ieri finalmente è calato il sipario su luiz alberto sperando che il giocatore faccia come lo scorso anno si prenda la lazio sulle spalle e quant'altro perché dico sperando perché è fondamentale della lazio perché queste prime due partite lo hanno dimostrato ancora una volta luiz alberto è la luce di questa squadra dipende tutto da lui luiz alberto se è in giornata illumina il gioco della lazio in termini di velocità di circolazione della palla in termini di verticalizzazioni in termini proprio di di genialate che spesso vediamo fare solo a lui ragazzi questo è un calciatore di di una qualità superiore assolutamente alla media dei calciatori presenti in un campionato medio basso qualitativamente parlando come lo è quello italiano quindi serenità e quindi siamo tutti contenti e quindi tutto a posto perché è giusto che il tifoso pensi soprattutto alla parte legata appunto al al campo la parte conclusiva di questo video però devo farla devo fare una riflessione personale su questo discorso legato a luiz alberto e torno a fare un discorso che ho fatto già tempo fa mi viene in mente pure berardi mentre parlo qui è un discorso di coerenza e chiedo a voi 5 anni di contratto a 4 milioni all'anno a un giocatore di 30 anni questo vuol dire che tu ti porti luiz alberto avanti fino a 35 anni questo vuol dire che tu hai il peso di 4 milioni più bonus all'anno 4 e 2 4 e 3 per intenderci per i prossimi 5 anni ripeto aspetto campo ne ho parlato non si discute sto ragionando su un altro discorso su un altro aspetto sul quale la lazio è sempre molto attenta sono troppi 5 anni ve la faccio breve dal mio punto di vista 5 anni di contratto per luiz alberto il giusto sarebbero stati 3 anni 3 quindi tu sai che ti porti luiz alberto fino a scadenza di contratto sicuro perché luiz alberto fra tre anni non c'ha più un mercato a 34 anni quindi tu negli ultimi due anni ti ritrovi in rosa un calciatore che prende 4 più bonus all'anno e magari ti può privare di affari sul mercato che capiterà nei prossimi anni alla fine il ragionamento base del tifoso non deve essere questo il ragionamento base del tifoso è quello che ho fatto nella prima parte di questo video però io onestamente mi fermo qui e coinvolgo anche voi in un'altra riflessione ragazzi proprio in questa che 5 anni di contratto forse sono troppi luiz alberto avrebbe firmato un contratto più corto non lo so e poi penso al discorso di coerenza se non hai preso berardi perché è vecchio perché non è un giocatore che ti puoi rivendere e berardi voleva un contratto molto alto perché con luiz alberto non hai fatto lo stesso ragionamento mentre parlo con voi vedete sto proprio io non mi preparo i video faccio delle riflessioni botta risposte in modo che poi voi ne parlate nei commenti e io vi leggo sempre dall'altra parte qualcuno mi può dire sì ho capito ma tu luiz alberto da mochetto lo sei ripagato perché comunque negli anni hai ammortizzato la sua spesa e anche questo è un discorso che ci sta onestamente andando a concludere questo mio ragionamento a voce alta insieme a voi in questo primo video di questo 31 agosto 23 sono felice del rinnovo di Luiz Alberto al contrario di quello che può sembrare a livello di campo è fondamentale avere un giocatore tranquillo a livello di campo per i prossimi due anni speriamo tre abbiamo ancora un regista di altissima qualità ma fatico enormemente a pensare tra 4-5 anni ad un Luiz Alberto 34enne 35enne con 4 milioni di stipendio all'anno rilegato in panchina perché davanti a sé c'è un giocatore di qualità superiore fatico perché la Lazio non mi dà la possibilità per quello che è il pregresso di ragionare in questi termini se poi accade un applauso perché vuol dire che anche sotto questo punto di vista la Lazio ha fatto un ulteriore step di crescita ecco questo e vado a concludere questo video proprio una chiacchierata spassionata di mattina per chiedervi la vostra cosa ne pensate riguardo questo discorso qui prendiamoci questo rinnovo che è importante è importantissimo per noi laziali per Sardi soprattutto per la Lazio stessa perché non potiamo permetterci di perdere anche Luiz Alberto dopo il Sergente però sulla durata sulla durata un pochino di dubbi onestamente il sottoscritto li nutre ecco vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video fatemi sapere mi è piaciuta sta chiacchierata perché è stata proprio spontanea vi parlavo in automatico mi davo le risposte da solo un po' da matto però mi piace pure questo ciao ragazzi fatemi sapere nei commenti e come sempre un abbraccio a tutti voi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti